E' stato nuovamente chiuso il viadotto San Giuliano per verifiche in seguito all'eccezionale ondata di Malterno nei giorni scorsi. La comunicazione arriva direttamente dall'ANAS che consiglia inoltre anche il percorso all'etternativo consigliato che prevede in direzione dell'autostrada A19 Palermo-Catania l'uscita statale al chilometro 59-900 sulla strada statale 640 direzione raccordo di per trapezia con immissione sulla strada statale 626 fino all'innesto con la 640 al chilometro 72-500 l'itinerario inverso per i veicoli diretti verso Agrigento.